Ma come non c'è l'ostetica? Ma non è possibile, allora chi li fa nascere i bambini? Il docter, il ginecologo, in the hospital! E quelli che nascono dentro casa? Nessuno nasce, in casa, here everyone is born in the hospital! Va bene, ma in ospedale, durante il parto, vicino al medico che c'è, non c'è l'ostetica! Listen, se vuoi, tu puoi fare un corso to become a nurse, tre anni, e tu diventi infermiera specializzata! Tre anni? E io che aspetto tre anni per andare a mangiare i miei figli? Ti ho richiesto da una fabbrica, per due persone, anche donne! Are you interested? Si, mi interessa! Si, mi interessa! Si, mi interessa! Si, mi interessa!